È il giorno dell'inaugurazione del nuovo hub vaccinale a San Vittorino. Da questo pomeriggio, infatti, gli appuntamenti presi in precedenza a Via Ficara sono stati trasferiti nella nuova struttura della Scuola Edile a San Vittorino, che ha visto il taglio del nastro alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. Una struttura moderna e mai usata, nata per ospitare uffici e corsi dell'Ese CPT. Poi l'idea di metterla a disposizione da parte di Ese, Ance e sindacati, che è stata raccolta per superare le criticità del centro di Via Ficara, 2.000 metri quali di edificio, con il primo piano allestito come sede vaccinale, 350 parcheggi, ampi spazi per permettere file senza assembramenti e inoltre ingresso e uscita, separati per l'utenza. Nove linee vaccinali che lavoreranno dalle 9 alle 19 per arrivare ad una potenzialità di 800-900 vaccini al giorno. Sì, la scorsa settimana stavamo parlando di come sistemare il tavolo, di come sistemare la sedia e in queste situazioni il tempo è fondamentale, non si può perdere tempo, qui nell'arco di una settimana e anche meno si è organizzato tutto quanto, la segnaletica, la logistica, per questa struttura nuova che risolverà molti problemi. Questo è un centro di salute, cultura e formazione, perché va a sintetizzare le funzioni, le attività dell'ente che ci ospita e dell'azienda che garantisce la sua attività. L'utente che arriva qui avrà la possibilità anche di fare un percorso culturale attraverso tutta una serie di immagini presenti sulle pareti che testimoniano l'alto impegno del lance dei costruttori per quanto riguarda tutto quello che è la ricostruzione. Soddisfatta ovviamente il lance che ha lavorato molto per questo obiettivo assieme all'ese CPT e ai sindacati. I costruttori del resto sono stati sempre in prima linea nella notta contro il Covid e resterà attivo il presidio di Bazzano per coprire tutta la zona est. L'intenzione nostra è di inaugurare la scuola il primo di luglio. Poi c'è stata questa manifestazione di interessi rispetto al problema della pandemia, rispetto alle vaccinazioni, si è fatto questo connubio noi con la ASL e quindi per almeno sei mesi, fino alla fine dell'anno, il piano terra rimarrà a disposizione per quanto riguarda il piano vaccinale. Ma noi già potremmo utilizzare il secondo piano, poi già abbiamo le altre strutture, quelle che utilizziamo in questo momento, quindi tutto sommato il servizio ai nostri iscritti non verrà meno. Quella che stiamo vivendo è una sfida epocale e noi come rappresentanti datoriali e sindacali abbiamo voluto mettere a disposizione della comunità una struttura nuova, moderna, all'avanguardia, restituendo qualcosa anche a questo territorio che molto ci ha dato. Grazie.